Ciao a tutti, questo è il mio 99 Jeep Grand Cherokee, è un 4.78 e è l'auto che ho usato per lavoro. Il problema che ho avuto al momento è relato con il relai sotto il dash e questo controllo controlla il turn signal e l'alzard, ma non funzionano. Per ottenere questo relai ho bisogno di eliminare questo trimme panel, questo e questo anche. Quando hai eliminato il panel, tenete in mente che bisogna fare attenzione al plug connetter. Questa Jeep sta gestendo un'alzard, quindi in mio caso devo fare attenzione al connetter per l'alzard. In order to remove this lower panel trim we have to remove 4 bolts. This is the first one, second one, third one is down here, and the last one is down in that corner. Before pulling this panel down you need to remove this lower trim, which is the one that protects the OBD2. At this point you can pull the lower panel at this point you can see the big light blue relay. That's the one that you need to remove. Just in case you need this is the part number. As you can see after changing the relay the hazard and the turn signals are now working. There we go. There we go. There we go. There we go. There we go.